Il Natale è ormai alle porte e nella terza domenica di Avvento Papa Francesco ha invitato tutti a immergersi in questa gioia non superficiale o puramente emotiva e nemmeno mondana e del consumismo. Non si tratta di semplici parole perché Gesù afferra tutto l'essere umano e lo rigenera. Dio, ha detto il Pontefice, è entrato nella storia per liberarci dalla schiavitù del peccato, ha posto la sua tenda in mezzo a noi per condividere la nostra esistenza, guarire le nostre piaghe, fasciare le nostre ferite e donarci la vita nuova. Il Natale è vicino, i segni del suo approssimarsi sono evidenti per le nostre strade e anche nelle nostre casse. Anche qui in piazza è stato posto il presepio con accanto l'albero. Questi segni esterni ci invitano a accogliere il Signore che sempre viene e bussa la nostra porta, bussa il nostro cuore per avvicinarci. Ci invitano a riconoscere i suoi passi tra quelli dei fratelli che ci passano accanto, specialmente i più deboli e bisognosi. Alla fine della preghiera dell'Angelus, Papa Bergoglio ha ricordato la beatificazione odierna in Laos e ha salutato i bambini e i ragazzi dell'urbe venuti per la tradizionale benedizione dei bambinelli, organizzata dagli oratori parrocchiali e dalle scuole cattoliche romane.